una scultura, un quadro e nel nostro caso una canzone diciamo ogni opera di questo genere ha una peculiarità ben precisa perché non ci sono tutti? ha diversi diali di interpretazione noi assegniamo inserita quello che più è vicino alla nostra sensibilità anche al nostro momento per viverlo a 360 gradi in questo caso la canzone e questo è un titolo un po' avocalittico che si chiama John Marley con Mastai che ha fatto questo po' John per dover morire in realtà non ha fatto assolutamente nulla